Chi racconta un'altra storia, chi oggi racconta che votando per loro torna Draghi, chi racconta che votando per loro cambia il segno della politica italiana, sta raccontando una cosa non vera. Votando per le liste che sono attorno alla nostra coalizione si aiuta semplicemente il centrodestra. Chi non vota per noi aiuta Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi. Chi vuole fermare le destre ha una sola possibilità, votare per la lista Italia democratica e progressista, votare per i candidati del Partito Democratico, votare per i nostri candidati delle nostre liste all'uninominale.